Dopo oltre 30 anni l'Istituto Magistrale Manzoni di Latina si rifà il look grazie all'impegno dell'amministrazione provinciale. Abbiamo fatto un'operazione importante di restyling basata sul concetto della cromoterapia, cioè diamo colore ad una scuola che di fatto essendo bianca, grigia, non stimola neanche le attività sensoriali dei ragazzi, ma soprattutto è l'impegno, il grande impegno che noi abbiamo messo in questi anni nella scuola, per la scuola, perché riteniamo che sia fondamentale se vogliamo vincere le sfide del futuro. Non ci sono dubbi da questo punto di vista, vinciamo le sfide del futuro se investiamo sulla scuola. L'impegno per le scuole, come quello per le strade, è per il presidente Armando Cusani il motivo principale per il quale le province non dovrebbero smettere di esistere. E questa è anche la prova che senza le province non avremmo scuole migliori. E quindi non avremmo una comunità più forte, più ricca, nazionale, comunità nazionale, non soltanto quella della provincia latina. Quindi le province sono indispensabili, fondamentali. Ovviamente ci sono province che fanno bene e province che fanno male, ma questo non significa che bisogna sopprimere soltanto perché ci sono province che fanno male. Ma l'esempio di investire sulle scuole è l'esempio che dimostra come le province sono fondamentali e che il lavoro che fanno le province non potrebbero fare altre istituzioni.